per questo è la entro più veloce in tutta la vita mai fatta in tutto il mondo d'italia vabbè comunque tra ce l'ha 130 con la linea del vero che ho trattato a un momento a casa base a casa base intanto io già uno spettatore lei è un imbecille mi scappa poco da caca mi scappa poco da caca mi ha necessario ragazzi vediamo subito che scherzo in live stefano male lungo domani giochi ti scrivo su whatsapp ok stefano benvenuto no per favore che si è sbagliato a voto guarda per favore 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 ma di nuovo perché dovrebbe essere baggata per favore 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 chi stiamo oggi 49 eh vabbè vai divisa divisa era 49 siiii grazie oh ma che vuoi dammi un attimo mi permessi facciano un bacio che ti dici a vedere oh fanculo dai che vuoi che vuoi dai dammi un attimo mi permessi dovrei venire facciamoci come la faccia fatto di ci sono così tante volte che diventi il ciccione anche se lo sedi mi scappa proprio da cacca mi scappa proprio da cacca mi scappa proprio da cacca non 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 ma non c'è un bel po' il tutto è difficile ok troppo va bene facciate troppo è un giudice è un giudice è un giudice ehi dai dai vai lo fa per il giudice eh sì sì ma che culo di merda fra grazie grazie no no non si batte il king ma ma l'ha già truffata una volta dai 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 non 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 si però lei spero se non la mette all'angolo l'arma è come varare è non lei non è giusto però se se la troppo qua davanti la deve troppo all'angolo eh sì è troppo semplice però sì è troppo semplice però sì 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 vado io di là vado io però non fa più la modifica la ha l'ho la non 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 è e l'ai una una cosa di un giorno se siamo qui non trovi che non sta non lo so Grazie a tutti. 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 Ma che cazzo dici? No, no, no. Grazie a tutti. No, no. Grazie a tutti. 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 un nano di vostra statura d'oro lei ha il pietra legno no? lei ha il pietra legno, mi sto vedendo questo questo ne ho solo uno un lama di bassa statura d'oro dai 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 le donne fa del mio rano alcune trappole che le servono anche se sono bello basso ma scusate la mia voce bellissima però è troppo bello poi non c'è fretta non 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 niente ti voglio tanto tanto è un bel cittadino non 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 e santa la mia roba spiaggia non è giusto c'è una bella scultura guarda la pasta l'uomo non ho un piano come si è vero ho distrutto tutto è diventato tipo la puntina come è tutto di scelto fra ti potenti ringrazio mi ha giusto anche potenziare loro ma non mi piace c'è sì sì te ne è vero no dai sono un piacere oh 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 posso espirare a fare no no solo per questo mi dovresti ringraziare eh solo per questo ma a me di breve sì una un po' cattivo sono leggermente malvado direi dai 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 è che c'è ciò che faccia no mi sono bello becco! non me ne ragionerei questo piccoletto in mese mi chiamavamo di chiamati mi chiamavamo collato nooo dai dai come va là sotto la vedo dalla scala a farmi questo è solo un po lo voglio avere la vedo come va signore no 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 non volevo fare bene che cosa fai niente però si risponde a questa domanda di un'arma 160 colpercle gembari e mentogino allora ti do un'arma 130 colpercle e mentogino allora vabbè quanto fa è un'operazione difficile impegnati eh uno più due tre no quattro che asero che asero che asero è asero è asero quantos hai mafio hai mafio valore foto 9 io 4 sono avvantaggiato allora tutti i amici sento pensare ti do un'arma cinquant'otto tutto su, su, su bravo ma c'è più piglia però no mi ha deluso lei anche lei mi ha deluso 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 ma lei si deve vergognare di brutto sarà di brutto guardi cazzo ma possibile guarda lei prova a truffarmi e guarda quanti pochi nocturni ho venga qua da me guarda ne ho pochissimi fra cioè ma possibile io direi possibile che una persona mi deve provare a truffare cioè mentre io ho pochissimi nocturni io non non vaffanculo tutto il rabetto regalato poi questa mi serve dai uno Guarda, ti fa vedere le mie collezioni. Allora, ho una collezione di cannone immondizia. Sono tre al 130. Poi c'è la mia collezione di spade di Masamuni. Una, due e tre. Poi ho la collezione di mitragliette. Poi la collezione di lancia. Di lancia, c'è questo. E questo, una 106 legacy e una 130. Ah no, scusa, mi sono dimenticato quello 106 qua. Allora, poi ho la collezione di altri. Anzi, lancia l'altro mitragliette tutti insieme. Non mettiamo soltanto i cannone immondizia. Dai, mi sono dimenticato tutto. I am, dichiara Ferragne. Poi, qui il pezzo forte. Collezione di assalti in generale. Questo è un assalto. Questo è un assalto. Questo è un assalto. Questo è un assalto. Aspetta, il mitraglietto. No, ho lasciato questa, scusa. E poi, tra... ho le pistole. Questo è sempre un mitraglione, sì. Comunque, questo è sempre una cosa, un mitraglione. Ocso. E poi ho... Collezioni di armi che erano legacy. Con lo spettro. E dopo questo è... Andi, dichiara Ferragni. E questo. Poi le lanceraggi ci devo mettere anche questo che è legacy. E poi, qui, questo lo metto tra le pistole. E poi, qua c'è un'apparizione brutta scarica che la metto qua. Perciò lo scuola. E poi, qua c'è un flusetto. Ecco, tutte le mie collezioni. E poi, qua c'è un buon papà. E poi, qua c'è un buon papà. Sì, qua c'è un buon papà. Non ci vuole un cuore nel cuore. tutto tutt'ora c'era frasto non ti arrabbiare tienila dai ti ho aperto figlio un po di roba non ci sta niente 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 però vieni non ti posso dare 130 però guarda Dio ora basta fra piangi un po' con me prima piangi un po' con me no no non ti amo chi ti amo ora andiamo su battaglia perchè? perchè? perchè ho voglia di andare su battaglia poi non per la prima volta Alessandro che ho voglia di andare su battaglia cosa dico son buon man qui si si ciao bambino col piccaccio piccolino ci devo andare in più pino ragazza pino c'è un casino Abba fai, c'ho abbattato Abba fai, c'ho abbattato Bella bro, lascia un bel like, iscriviti e giacchiamo insieme Raga lasciate tutti, un bel like per questo, ho i 10 miliardi per la strada, doloroso, doloroso, salvatore molto doloroso Maaa, Grossi, 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 grossi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.